Era stato eletto per la prima volta nel 2000 e riconfermato per quattro mandati. Dopo 17 anni Claudio Piva lascia la guida dell'Ordine degli Agronomi di Piacenza, un periodo molto lungo in cui la professione si è evoluta e ha abbracciato numerosi ambiti. Lo spettro di lavoro si è notevolmente ampliato. Adesso si parla di ambiente, si parla di paesaggio, si parla di pianificazione del territorio, parliamo di foreste, parliamo sempre ovviamente di ambiente agricolo e rurale, però alla fine si sono aggiunte effettivamente molte nuove competenze. La cosa che mi inorgoglisce di più è quella della tenuta dell'Ordine e della vicinanza che mi hanno sempre e hanno sempre dimostrato al Consiglio e tutti gli iscritti. Attualmente gli iscritti all'Ordine degli Agronomi di Piacenza sono 154. Sta aumentando notevolmente la percentuale di iscritti che si dedica alla libera professione. Questo è un aspetto che noi riteniamo molto positivo. La settimana scorsa l'Ordine ha rinnovato il Consiglio. Restano Emanuela Torrigiani e Giuseppe Rattotti, Torna Paolo Guardiani, sei nuovi eletti, Giuseppe Miceli, Giuseppe Botteschi, Lorenzo Casalini, Alessandro Anselmi, Mauro Gozzo e Lorenzo Groppi. Emanuela Torrigiani è l'unica donna del Consiglio ed è stata la più votata. L'elezione del nuovo presidente è prevista lunedì 25 settembre.